Signore e signori, a inizio la pregnazione della San Benedetto Tennis Cup, in campo per la pregnazione il presidente del Cisimaggioni, Apro Zopoletti, il sindaco di San Benedetto il Conte, Giovanni Gassari, il direttore del torneo, Giorgio Garcia, e il presidente del comitato regionale Marche, Emiliano Luzza. Cominciamo dalla premiazione del finalista, Andreas Eilermaurer. A premiarlo il sindaco Giovanni Gassari. E adesso un applauso ancora più forte, perché bisogna pregare lui, quello che non è stimato, per alzare al cielo la San Benedetto Tennis Cup, Danir Zubur. Grazie, Apro, Apro. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 è stato un'ottima settimana, tu avresti il tuo migliore ranking, tu avresti un 1.5 per il mondo, per farvi un'editura. Prima di tutto voglio dire grazie per il Heide Nola, per un buon match e per una buona settimana. Grazie per la situazione, ma questo è in mio un minuto. Grazie a tutti gli spectatori, gli altri. I tutti i questi altri, tutti i nostri sponziatori e tutti gli altri che facciano questo castimento. e questa è stata una delle settimane migliori settimane della mia vita spero che l'ho venuto l'anno prossimo e voglio dire grazie a mio padre e al coach che è sempre qui con me grazie now for you challenger in Portland and you are in the same half of the draw so maybe a silly final together and if you get silly final that's perfect ok, thank you very much un grande applauso ai due finalisti della SEMENERA PANISCAP adesso due parole da Carlo Zogoletti presidente del Citi Maggiore grazie Matteo due parole sole per ringraziare tutti i giocatori che hanno animato questo torneo in questa finale tutto il pubblico che ha affollato per tutta la settimana questi spazi, questo meraviglioso luogo ringrazio naturalmente i colori che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione quindi tutti gli scontri anche la Triasco il nostro comune e anche la federazione italiana tennis e noi lavoreremo a partire da domani per far sì che l'anno prossimo sia ancora un torneo migliore e ringrazio la direzione del torneo PrioNet per aver apportato una metà delle novità e di professionalità e quindi l'appuntamento attuale è l'anno prossimo grazie a tutti voi e adesso per continuare la parola al signato di San Meneo e il torneo della negazione e che stanno per finire le batterie quindi è il caso che il saluto sia velocissimo complimenti agli organizzatori complimenti ai ragazzini alle ragazzine a tutti quelli che praticamente hanno avuto ancora più bello questo torneo credo che quest'anno dal 2008 io ricordo quando abbiamo ripreso sia stato il livello più alto anche di qualità per cui la sfida sul 2015 sarà una sfida ancora più alta ancora più difficile ma sono certo che in questa direzione il Presidente e tutti i suoi collaboratori riusciranno a dare sicuramente un tocco di ulteriore qualità e di ulteriore classe quindi grazie a tutti voi e grazie per questo stettacolo che si può promuovere e le ultimissime parole le ci diamo al Presidente del Comitato regionale Marte buonasera a tutti questo è uno dei tornei più freddi della stagione tenistica martigiana è una vera giusta della stagione tenistica questi ragazzi, questo torneo, questa importanza non fanno altro che ulteriormente migliorare e incentivare il tennis martigiano quindi grazie al Presidente Antonio Tomoletti grazie a tutto il direttivo al Comune e anche per me anche per le organizzazioni con sicuro che il prossimo anno anche se sarà difficile di uscire in rete per aspettare un bel mese di tempo grazie a tutti quindi la stagione di tutta del SCAP 2014 si conclude qui appuntamento al prossimo anno o a tenis a tutti